Enrico Bai è stato senza dubbio fra i più geniali e dissacranti artisti del Novecento italiano, un artista tutto tondo che si è impegnato anche a riflettere e a condividere con noi le riflessioni sul sistema dell'arte, sull'arte in generale, sul nostro mondo. Alcune di queste riflessioni sono ricompresi in un volume edito da Abscondita, Ecologia d'artista di Enrico Bai, che contiene riflessioni interessanti. Ad esempio, scrive Enrico Bai, l'Italia è il paese che ha più imponente patrimonio artistico. Si dice che possiede dalla metà ai due terzi delle ricchezze artistiche di tutto il mondo. Nel suo complesso, questo patrimonio, che comprende opere preistoriche, monumenti dell'antichità greco-romana, architetture paleocristane, romaniche, gotiche, rinascimentali e barocche, ha costituito da sempre una grande attrattiva per uomini di cultura come Goethe, Bayron, Shelley e Stendhal, che nell'Italia videro sempre la terra dell'arte, oltre che delle bellezze naturali profusa e iosa. I Farnese, i Medici, Montefeltro, i Corsini, Gonzaga, gli Sforza, gli Uomini del Potere, i Principi della Chiesa, le famiglie aristocratiche, tutti fecero a gara, nell'elevare cattedrali e parazzi, nel raccogliere pitture e sculture, nel chiamare alle loro corti i Mantegni, i Tiziano, i Giulio Romano, i Michelangiri, Raffaello, le grandi collezioni di principi e privati cittadini attraverso donazioni, lasciti e altri passaggi di proprietà vennero mano a mano a confluire in musei, gallerie, pinacoteche, gabinetti delle meraviglie, accademie, quadrerie e gipsoteche. La nostra bella Italia si trova ad essere il paese più ricco d'arte, un patrimonio che è oggetto di visita ogni anno da milioni di turisti che provengono da ogni dove per vedere Venezia, la Sistina, il Cenacolo di Leonardo, gli Scrovegni a Padova, la Piazza della Signoria, il Camposanto e il Campanile di Pisa. È chiaro che la grande stagione dell'arte italiana arriva sino al barocco, a Tiepolo e ai vedutisti veneti, poi con l'Ottocento la decadenza culturale sarà costante, irreversibile, scrive Baye. Il primato passerà alla Francia con l'Illuminismo, con la Rivoluzione, con Napoleone che tenterà di riunificare l'Europa piena ogni passo di frontiere. Lo spirito dei tempi nuovi venne cantato dai L'Autremont, dai Rimbaud, dai Baudelaire, venne l'impressionismo e la pittura si riempì di smaglianti colori. Ma mentre Van Gogh e Cézanne scoprivano ed esaltavano il colore, trasferendo la pittura dal campo della celebrazione e della descrizione a quello dell'immaginazione e dell'espressione, in Italia i nostri pittori si davano a una sorta di realismo sentimental populista, con scenette di genere, soldatini a cavallo, scugnizi napoletani, tarantelle, gite a piedi grotta, barcaioli, pescatori, donne che accudiscono i bambini, lavandaie e cucitrici. È un po' la pittura italiana dell'Ottocento. La sensualità quale poteva apparire nelle scene di Baci, da Hayes a Tranquillo Cremona, viene cancellata da un'atmosfera sentimentale sdolcinata, scrive Baye. Quella stessa che porterà all'invenzione dei Baci perugina. Il perbenismo, al cui successo non è certo estraneo Alessandro Manzoni, invade così il paese. Benché anche da noi ormai si dipingesse al cavalletto, all'aperto, nella piena luce solare, la pittura che ne venne fuori era spenta senza l'ammagliante cromatismo del colore. I pittori che più studiarono il colore e la sua composizione furono i divisionisti, ma se si raffrontano il circo, la domenica la Grand Jatte di Soirat con le due madri di Segantini o un Natale al Pioalbergo Trivurzio del Morbelli, il confronto risulta piuttosto catastrofico, scrive Baye. In realtà è impietoso, ma per un dato tecnico, non tanto per lo squallore dei nostri soggetti, quanto per la mancanza di luce nelle opere. La colpa non era solo dei pittori, infatti in Italia dopo il Settecento si perde l'arte di fabbricare i colori, ed è vero, in Francia c'erano i colori Lefranche bourgeois, estremamente costosi, che in Italia solo pochi pittori potevano permettersi, mentre in Italia non c'era una produzione degna di questo nome. Abbandonata la grande arte, scomparsi i mecenati, principi illuminati, collezionisti e lasciti di opere, i musei italiani si sono fermati ad alcuni secoli fa. Senza lasciti e senza donazioni i musei d'arte moderna qui da noi non si possono fare, scrive Baye. Persino dei pochi nostri grandi pittori moderni in Italia non ci sono opere o quasi, non ci sono di modigliani, di dichirico di quelli giusti, ce ne sono tre o quattro, e quanto ai grandi futuristi bisogna vederseli al MoMA, a New York o altrove, ma non da noi. Il mecenatismo, il finanziere illuminato, qui da noi non compra pubblicamente Van Gogh o Picasso o Mondrian o i grandi autori italiani, tutti si disinteressano d'arte, a cominciare dai nostri governi e la tassano e tartassano come una mercanzia qualunque, oppure la considerano un bene da mettere sotto tutela burocratica e da proteggere con leggi assurde, e questo è proprio vero. L'arte che domina oggi in Italia è il kitsch, è quell'arte fatta di ricordini, di quadretti di fiori, di laghi svizzeri, di cime nevose, di marine al tramonto, di donne semisvestite che suonano il violino, di vecchi con la pipa cadente, di nudini languidi e pudichi, dal timido pube e dalle punte dei seni sfuggenti che non puoi afferrare. Insomma, una paccottiglia di orrore pittorico fatto in serie, in cui viene rispettata una certa rappresentazione sentimentale del vero, con l'aggiunta di qualche grumo di colore, come i tempi dei macchiaioli. Di questi quadri che vengono prodotti in quantità e venduti a bassissimo prezzo, l'Italia è piena zeppa e si direbbe che tutti li abbiano in casa. Queste opere d'arte, d'arte per modo di dire, vengono offerte nei mercatini rionali o di paese, sono esposte nei mercatoni di mobili oggetti d'arredo, lungo le passeggiate a mare, delle riviere adriatiche, nei luoghi turistici, nei pressi dei santuari, agli imbarcaderi dei battelli, nei sottopassi della metropolitana. Impietosa analisi che Bai riassumeva nella definizione caduta del gusto e sotto sviluppo artistico in Italia, però insomma una riflessione sempre attuale tutto sommato.